Conferenza stampa del PDL Ravennate per lanciare un grido di protesta contro il sindaco Matteucci e contro la sua giunta. Non coinvolgono e non ascoltano il Consiglio Comunale cittadino, al punto che negli ultimi sei mesi il Consiglio Comunale si è riunito ed ha lavorato solamente 42 ore in totale. Un Consiglio Comunale mortificato? Più che un Consiglio Comunale mortificato, un Consiglio Comunale direi quasi inesistente. Considerato che sono trascorsi cinque mesi il Consiglio Comunale di Ravenna si è occupato solo di adempimenti di legge o di rinnovi di pratiche in scadenza. Altro non è stato fatto. Sono stati ignorati i grandi temi che hanno interessato ed interessano la cittadinanza. La mancanza di sicurezza della nostra città. Voglio rilevare che l'unica volta che il Consiglio Comunale si è occupato di sicurezza e del successo dopo i notti fatti di via Cavour, questo è avvenuto su richiesta dei consiglieri di minoranza. Perché altrimenti forse non ci sarebbe occupati neanche di quello. Quindi non direi un Consiglio Comunale che dorme. Noi ci attendevamo alla ripresa dell'attività estiva che ci fosse un colpo d'ala, che ci fosse una voglia di fare. Invece ci sono state annullate le prime due sedute del Consiglio Comunale dicendo che non ci sono pratiche. Cioè ammettendo che chi deve lavorare non lavora. Perché a Ravenna i problemi ci sono. L'ordinanza che il sindaco ha prodotto nella zona dei giardini di Spire non ha avuto le risultanze che doveva avere. Come era del resto facile prevedere. Perché sono continuati gli accoltellamenti, le risse. Tant'è che lo stesso Assessore Monti ammette sulla stampa che attraversare o frequentare i giardini Spire di sera è pericoloso per le donne e per gli anziani. Cioè quindi siamo dei livelli proprio di ignoranza dei problemi. Si doveva affrontare in settembre il discorso della prossima stagione balneare Marina di Ravenna, le nuove regole o le regole per la questione marina. Quando quest'anno se ne è parlato si è detto la stagione inoltrata. Ne parliamo a settembre con un grande tavolo di concertazione, questa grande parola concertazione. Fra operatori turistici, fra residenti, giovani e quant'altro e addirittura noi di questo non sappiamo niente. Un ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle è stato liquidato, non dico in malo modo, ma liquidato dal Consiglio Comunale direi con una mini discussione. Insomma, quindi i grandi temi che interessano Ravenna, che interessano la cittadinanza di Ravenna non vengono affrontati. Ripeto, è aumentato il senso di insicurezza, la crisi economica si fa sentire anche qui. Questo nell'assoluta ignavia del Consiglio Comunale. Si ipotizzano aumenti delle tariffe per i rifiuti e anche di questo in Consiglio Comunale non si è parlato. Nella vicenda atto-era, cioè l'aumento delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti civili urbani, nulla. Per quanto riguarda il ridimensionamento scolastico, il sindaco sta facendo il giro delle sette chiese, cioè di tutte le scuole, con un piano di cui noi non sappiamo, il Consiglio Comunale non sa niente. Ne sa un giornale locale, l'ha pubblicato dettagliatamente. Il pseudo o progetto fantasma della giunta del sindaco, non so di chi sia, ma noi il Consiglio Comunale di queste cose non ne sta parlando. Questa è la denuncia che sta facendo, che intende fare il PDL con la conferenza stampa di oggi.